Sensazioni, si sta cercando di lavorare per cercare di fare una grande partita, abbiamo toppato la prima mezz'ora a Renate e ci sta anche, perché sì, vabbè negli allenamenti congiunti, ma sono scampagnate fra amici, l'attenzione di una gara è diversa, gli albitri ci sono, qui abituati all'Uispe o altre cose, bisogna ritrovare l'abitudine alla gara, alla determinazione, alla voglia di far risultato, noi non possiamo prescindere dalla determinazione e dalla voglia di far risultato, se pensiamo di essere troppo bravi ne buschiamo, perché io penso che l'atteggiamento in una squadra sia all'80% oltre alle loro qualità, perché poi in campo ci vanno ragazzi, noi li possiamo solo indirizzare e dargli una mano, nelle scelte, nel modo di giocare, cercare di capire. La squadra è in costruzione, la squadra con quello che ha deve saper reagire e deve dimostrare quelle che sono le sue qualità, entrerà della gente rispetto alla gara di mercoledì e pensiamo che ci possano dare molto di più, tutto qui, però io penso che la società sta facendo dei sacrifici, non è facile andare a prendere giocatori in C e pagare cartellini come sta facendo il Presidente, anche con di somma, perché i soldi li tira fuori lui, non è facile, io penso che in C di solito non si pagano cartellini, si subendrano gli stipendi queste cose qua, perciò io posso solo dirgli grazie, tra le altre cose l'ho anche detto ieri sera a lui di persona, perché secondo me ha fatto un sacrificio e mi sembrava al minimo che gli... Parla di Silvestri adesso? Sì, sto parlando di Silvestri e mi sembrava al minimo ringraziarlo, è questo dietro suggerimento di somma sempre. Grazie a tutti.